Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti a questa serata, a questo secondo appuntamento organizzato da ACN, Associazione Comelico Nuovo, che vuole mettere al centro la riflessione sulla montagna e sulla vita di chi sta in montagna o di chi sceglie la montagna. L'incontro di questa sera infatti è un incontro che vuole portare un momento di riflessione, di condivisione, insieme ai nostri ospiti prestigiosi che hanno accolto l'invito ad essere qui questa sera, per ragionare insieme e condividere quella che è la prospettiva, il futuro della vita di montagna oggi. Quindi guardando anche a quelli che sono i cambiamenti in atto, cambiamenti ambientali, cambiamenti climatici, cambiamenti degli assetti sociali, politici ed economici e anche la vita di montagna è chiaramente collegata a tutto questo. A volte abbiamo la sensazione che la vita di montagna si allontana, sia separata dal resto, invece potrà essere fortemente influenzata da tutto quello che sta succedendo. E questa è la cornice dell'incontro di questa sera. E devo dire che fa particolarmente piacere vedere così tante persone in un cinema, al cinema Piave, che per chi è del posto o per chi, come me, ha passato molto tempo della sua vita, della sua infanzia da queste parti, il cinema Piave ha rivestito un ruolo anche simbolico. E forse anche mi viene da dire, i cinema sono un luogo di aggregazione culturale, sono dei resilienti della cultura in assoluto e dopo due anni di pandemia sono forse proprio dei resistenti i cinema, soprattutto nei luoghi di montagna. Ecco, parlare di futuro della montagna in un cinema di montagna mi sembra quasi un atto simbolico. E quindi è un piacere essere qui e vedere anche persone così varie, credo che ci siano tra il pubblico persone che vivono nelle terre alte, così spesso le chiamiamo, in questa valle, persone che quindi conoscono la vita di montagna da vicino, anche la sua durezza, persone che, nate qui, scelgono di rimanere. E dall'altra probabilmente anche dei turisti, persone che sono qui per vacanza e che quindi hanno scelto un turismo in questa vallata. E non è un turismo uguale a quello di altre vallate, anche di questo parleremo nel corso di questo incontro. Ecco, e io mi presento, sono Chiara Di Benedetto, mi occupo di comunicazione della ricerca e della scienza e la insegno all'Università di Padova. Soprattutto sono molto felice di essere qui questa sera perché, sebbene il mio nome, il mio cognome non lo riveli, l'altra metà di me, la metà materna, è originaria di qui e quindi è un piacere poter anche ascoltare, essere parte di questa riflessione, vista il mio legame con questo territorio. Ma se questa serata è possibile è perché c'è una associazione nuova che si è mossa da qualche mese, costituita inizio febbraio, se non erro, e ha messo in campo le competenze del territorio, le competenze, le risorse umane presenti, cercando di fare squadra, consapevole del fatto che spesso poi la resilienza in questi territori viene dalle persone e dalle persone che si uniscono, mettendo a servizio della collettività e della comunità quello che hanno, quello che sanno. E è quello che io ho letto, visto in questa associazione come Elico Nuovo, da quello che ho potuto sentire nel corso di questi mesi. E quindi intanto chiamo sul palco la rappresentante, la referente dell'area turismo e dell'area eventi dell'associazione, che ci dirà qualcosa in più. Chiamo sul palco con Raffaella Pradetto. Buonasera a tutti. Devo dire che sono emozionata e orgogliosa nello stesso tempo questa sera di essere qui a rappresentanza dell'associazione e del direttivo e del mio tanto amato comelico. Questa sera abbiamo due ospiti d'eccezione. Abbiamo Chiara, che ci aiuterà nello svolgimento della serata. Ripeto, l'emozione la fa la padrone in questo momento. Quello che mi sento di dire è che sono felicissima di vedere questa platea di persone che sono qui per ascoltare uno di quelli che sono gli obiettivi dell'associazione, ovvero la divulgazione del pensiero, delle visioni diverse e nello stesso tempo delle visioni simili. Le cose che accadono nelle altre montagne e negli altri territori sono le stesse che accadono qui nel nostro. E quindi questo ci deve servire da esempio per capire che non siamo soli. Grazie a te Chiara. Toglici una curiosità Raffaella. Associazione Comelico Nuovo. Io mi sono domandata quando ho sentito il nome. Comelico Nuovo perché c'è bisogno di un nuovo comelico, di un comelico rinnovato rispetto a quello esistente? Evidentemente Chiara mi ha passato un'ottima domanda e quello che ci tengo a dire è che per noi il nome Comelico Nuovo è stato scelto apposta. In prima battuta c'è il comelico che è il protagonista. Dopodiché c'è l'aggettivo nuovo. L'aggettivo nuovo non è solo legato all'altro suo aggettivo vecchio, nel senso che noi partiamo dalle nostre radici, partiamo dalla nostra cultura, partiamo dal nostro vivere il territorio e quello che vogliamo fare è provare a immaginare il nostro futuro, ovvero il nuovo. Ed è per questo che anche la scelta del nome è stata una scelta pensata, senza nulla togliere a quello che già c'è nel nostro bellissimo territorio. Anzi vogliamo solamente avvalorare tutto quello che è possibile. Per quanto riguarda il nuovo, quello che è uno dei nostri obiettivi principali è quello di avere delle pari opportunità. Ecco questo sì è importante per noi e per i nostri figli. Perché come dico sempre sarà anche forse una frase banale, però quello che io vorrei è che i miei figli potessero scegliere, come ho fatto io, di vivere qui e di continuare a vivere qui. Scegliere, perché la parola più importante è proprio quella, scelta. E così questa scelta deve essere data dalle pari opportunità. Questa sera abbiamo appunto degli ospiti importanti. Ringrazio il dottor Luca Mercalli e la dottoressa Chiara Mio, perché dai loro libri abbiamo tratto delle informazioni molto importanti e vedrete, mi auguro che sarà una serata piacevole per tutti. Ecco mi fermo qui e ringrazio ancora tutti voi per aver partecipato. Tra l'altro i numeri dell'associazione Comellico Nuovo, me li diceva prima il presidente De Bettin, sono molto alti, 3.700 iscritti su una popolazione di 6.500, 6.800 persone. Quindi vuol dire che c'è anche un desiderio di mobilitazione, credo, di comunità e di fare comunità. Ecco, la parola chiave che Raffaella ha detto è proprio scelta, scegliere e è nel titolo dell'incontro di oggi. L'incontro di oggi si chiama Montanari per scelta, valori, risorse, prospettive. Spesso capita, quando si è qui, di sentire le persone anche un po' preoccupate di quello che è il futuro, di che cosa potrà esserci in un prossimo futuro per chi abita la montagna, perché vive in montagna per i propri figli, come diceva Raffaella. La preoccupazione è quella dei servizi, servizi sanitari, cioè chi vive qui è oltre la periferia, dico io, nel senso che si è l'ultimo miglio della provincia di Belluno, vicini al vicino Alto Adige ma senza essere Alto Adige. E quindi in una situazione quasi di confine dell'impero in cui si cerca una propria identità, pur nella consapevolezza del grande valore del territorio, valore di natura, boschi, che sono una risorsa per la salute, una risorsa verde, ma anche una risorsa di energia, di energia possibile, energia rinnovabile per un prossimo futuro. E quindi è proprio anche dalle risorse che ci sono, dalle risorse disponibili, come uno scrigno, che bisognerebbe ripartire, esserne custodi e farne il proprio valore, perché scegliere significa anche appunto essere consapevoli di quello che si ha. Non c'è scelta se non c'è consapevolezza. E chiamo quindi il nostro primo ospite di questa sera che della montagna ha proprio fatto la sua scelta. Presentandosi nel suo libro Salire in montagna, scrive io nasco Montanaro di terza classe. In pianura prendo la patente di Montanaro di seconda classe abitando per un quarto di secolo nella mia borgata pedemontana di Monte Capretto, tra Moncourt e Musinet, e mi accingo ora a superare l'esame di Montanaro di prima classe, con la deliberata scelta di vivere più tempo possibile a quota 1650. Sto parlando del grande divulgatore, che molti di voi hanno sicuramente visto anche in programmi televisivi, è un volto molto noto, che ha fatto della montagna il suo terreno di studio e lavoro. Dopo una formazione scientifica di glaciologia, nivologia e climatologia alpina, ha deciso di spendere la sua attività non solo per studiare, ma proprio per fare divulgazione sui temi della montagna. E ho il piacere di chiamare sul palco Luca Mercalli. Benvenuto. Sì, puoi accomodarsi. Grazie, grazie della presentazione. Le categorie di Montanaro di prima, seconda e terza classe le ha inventate Mario Rigonisterne, non le ho inventate io, quindi il vecchio dell'altopiano. Voglio solo dirvi che non mi vedete con il papillon, ma ne ho portati tre. Ah, possiamo sceglierlo? Potete scegliere, giallo o azzurro, oppure se volete anche rosso. Ah, bello. Ma fa troppo caldo per indossarli, chiaro? Ah, quindi è tipo simbolico il papillon. È simbolico perché alla fine ci sono dei limiti anche per questo. Adesso è stagione dove il papillon si può anche mantenere in tasca in attesa dell'autunno. E proprio di caldo poi vi parlerò. Molte grazie. E allora intanto invito a raggiungerci anche la nostra seconda ospite, professoressa ordinaria all'Università Caposcari di Venezia, nel Dipartimento di Management, dove si occupa di politica e di sostenibilità, di sviluppo sostenibile, dove è anche direttrice del Master in Sustainable Management. Inoltre è la presidente di Credit Agricole Friuladria, soprattutto è la prima donna a essere presidente di una banca commerciale in Italia. E quindi con piacere chiamiamo sul palco la professoressa Chiara Mio. Benvenuta. Sì, prego. Allora, noi ci accomodiamo. Grazie di essere qui e di aver accolto l'invito di passare dalle vostre valli a questa valle. Io lascerei subito la parola a Luca Mercalli, chiedendogli anche proprio di dirci un po', secondo quello che è la sua esperienza, quello che è la sua attività di studio, che cosa ci possiamo aspettare nella prospettiva, in un prossimo futuro per la montagna e per chi vive e sceglie la montagna. Si potrà scegliere la montagna? Ma certo, anzi, la crisi ambientale e climatica che stiamo vivendo, a mio parere, diventerà una delle pressioni più importanti per riabitare la montagna, per il semplice motivo che le nostre pianure e le nostre città, che in Italia sono tutte tra l'altro hanno più di un'ora di auto dalle zone montuose del loro retroterra, diventeranno sempre meno vivibili, soprattutto nel periodo estivo. In questo momento, per dirvi, a Torino oggi ha già fatto 36 gradi, ne attendiamo 40 per lunedì e poi ancora martedì e poi mercoledì e poi giovedì. Sarà una settimana rovente, soprattutto sul nord-ovest, quindi Milano-Torino, ma anche Padova, anche Bologna, penso che i 37-38 gradi li toccheranno. Queste temperature erano ignote per la pianura padana fino al 2003. Abbiamo dati meteorologici di oltre 200 anni in Italia e proprio le grandi città del nord Italia tutte hanno un grande osservatorio meteorologico, anche Padova, Padova col Toaldo, uno dei più importanti meteorologi del Settecento, quindi c'è una ricchezza di dati per confrontare la situazione di oggi e fino alla fine degli anni del Novecento i 40 gradi in pianura padana non si erano mai toccati. Nel 2003, la famosissima estate del 2003 che rischia di essere battuta proprio quest'anno, lo vedremo a fine agosto, per la prima volta tocchiamo i 40 gradi e i 40 gradi arrivano anche a Parigi nel 2003, arrivano su gran parte dell'Europa occidentale e faranno tra l'altro 70.000 vittime, numeri da Covid, sono i morti per colpo di calore che con temperature di questo genere dove sono localizzati? Nelle città, perché le città fanno in fretta a superare la soglia di sopportazione fisiologica, soprattutto quando ci sono tanti giorni di seguito con questi valori di temperatura e con le notti calde, con temperature che non vanno sotto i 22-23 gradi e allora le nostre case che sono fatte di materiali che accumulano il caldo di giorno e poi lo restituiscono anche all'interno di notte vuol dire non riuscire più a dormire, vuol dire avere squilibri fisiologici importanti e soprattutto nelle fasce deboli, i soliti anziani e i soliti malati, abbiamo quindi la sovramortalità. Dopo il 2003 ci sono state tante altre estati calde, più brevi, non hanno superato il record di durata ma quello di intensità sì, tant'è che per il momento la temperatura più alta della pianura padana è stata registrata a Forlì il 4 agosto del 2017 e non dimentichiamo che l'anno scorso abbiamo toccato i 48,8 gradi a Siracusa, che è la temperatura più alta d'Europa. Allora il riscaldamento globale sta facendo crescere questi numeri, li sta facendo diventare più intensi e più frequenti e gli scenari che abbiamo purtroppo anche per via della nostra assoluta inerzia a livello mondiale nel contenere le emissioni di CO2, facciamo tante parole, tante conferenze internazionali e già prima della guerra in Ucraina non brillavamo per priorità assegnata all'ambiente, ma meno che mai questo sta succedendo dopo il 24 febbraio di quest'anno. Tutte le priorità oggi sono rivolte alla gestione di questo assurdo conflitto, la crisi dell'energia purtroppo non è stata vista come una molla per accelerare la transizione energetica verso l'autosufficienza, verso le energie rinnovabili, no, come vedete c'è invece solo la spinta, quando non a riaccendere le centrali a carbone, andare semplicemente a trovare la sostituzione del gas russo altrove nel mondo e il gas è sempre un combustibile fossile. Quindi molti soldi nel futuro verranno spesi in armi perché è ripartita la corsa agli armamenti e ogni dollaro investito in armi, magari anche nucleari, è un dollaro sottratto a un pannello solare o a una pala eolica. Quindi possiamo dire che pur speranzosi che l'accordo di Parigi venga rapidamente osservato, venga preso in considerazione e ci porti alla riduzione tanto richiesta e auspicata delle emissioni di CO2 per rimanere sotto un aumento di due gradi. Badate bene, anche nella migliore delle ipotesi non è che si guarisce il clima riportando a zero la febbre, possiamo dire, climatica. Al massimo possiamo concederci di contenere questa febbre in 1,52 gradi rispetto a un clima sano. Se poi non faremo niente la febbre salirà di 5 gradi a fine secolo. Questo per dirvi che tanto in un modo quanto in un altro, uno più positivo, l'altro più catastrofico, la temperatura è comunque destinata a salire in futuro, con un numero più piccolo 2 gradi o con un numero più grande 5 gradi. Io faccio il mestiere di climatologo, vedo cosa prevedono i miei colleghi e anno dopo anno mi inquieto sempre di più su quello che sarà lo scenario di quel Mediterraneo che tra l'altro ha ritenuto un cosiddetto hot spot climatico, vuol dire un punto caldo, un punto critico, perché quando diciamo due gradi di aumento di temperatura a livello medio globale sappiamo che le medie sono sempre fatte, spalmano tutto, quindi qualche luogo del mondo potrebbe anche riscaldarsi un po' di meno, ma ce ne sono altri che si riscalderanno di più e le Alpi e il Mediterraneo sono tra questi. Quindi noi prenderemo anche con due gradi delle stati che ne avranno quattro in più. E a questo punto ho detto qui bisogna attrezzarsi, sarebbe assurdo avere in mano tutta questa conoscenza e non usarla. Io cerco di divulgarla e farla conoscere al maggior numero possibile di persone, ma spesso quando si parla di ambiente il messaggio rimbalza, torna indietro, rompe le balle detto in breve, non piace, una rottura di scatole doversi sentire e dire che capiteranno queste cose fastidiose in futuro, che devo cambiare il mio stile di vita, che devo bruciare meno petrolio, che devo prendere la macchina elettrica, che devo mangiare meno carne, che devo mettere i pannelli solari sul tetto, che non posso andare in vacanza in aereo, che devo prendere una macchina più piccola, ma insomma che fatica, che ansia, sarebbe molto meglio credere ai negazionisti che dicono non è colpa nostra. Per fortuna che non è così e vi dico anche perché. Se doveste credere ai negazionisti saremmo veramente fottuti, perché allora come dicono loro, se dipende dal sole che ci possiamo fare? Facciamo una grande festa stasera e diciamo è finita. Fortuna, il fatto che dipende da noi è che abbiamo ancora dei margini per disintossicare l'atmosfera e ridurre il danno. Questa in fondo è una buona notizia perché è una decisione che pur sempre rientra nelle scelte dell'umanità. Ma detto questo io ho pensato che intanto conveniva attrezzarsi a livello individuale e questo attrezzarsi è stata pianificare una migrazione verticale, andare in alto per fuggire il riscaldamento globale. Io già abitavo a 500 metri, quel pezzetto che hai letto, Musinet, Moncurto e la bassa valle di Susa. È l'ingresso di una grande valle alpina dove nelle zone a circa 30-40 chilometri da Torino siamo a quote sui 500-600 metri e nonostante questo, nonostante abbia abitato lì per 25 anni, ormai il caldo si fa fastidioso anche a 500 metri, soprattutto nei versanti esposti al sole. Quindi la scelta è stata cerchiamo un posto decisamente elevato. La ricerca è stata sistematica con le mappe, con le ISO-IPS, ovviamente ci vuole anche un po' di fortuna perché le case da vendere non è che le decido io, le devi trovare, però la fortuna è arrivata con una vecchia baita del 1700 a 1650 metri, quasi al confine con la Francia. La zona che magari un po' potreste conoscere è la zona della Via Lattea, Sestriere, Bardonecchia, Sause Dulcs, Colle del Monginevero. È una zona di confine, di passaggio, un po' come essere vicino a uno dei grandi valichi che vi danno accesso all'Austria qui, una zona permeabile anche culturalmente, francofona. A questo punto è iniziata l'avventura che poi ho raccontato in questo libro, un libro che vuole essere un manifesto, un manifesto perché diciamo subito che in Italia abbiamo il 32% del territorio che è montano. Abbiamo un altro 40% che è collinare, ma ci sono colline veramente basse, ma ci sono anche alta collina, dentro la collina ci sono anche zone di 600, di 700 metri, cosiddette aree interne che vanno anche bene per trovare il rifugio dal caldo e dalle città. Mettiamole insieme questi due grandi areali italiani detti zone interne. Viene fuori il 50% e questo 50% in massima parte è spopolato, è marginalizzato, è stato abbandonato nel secondo dopoguerra con l'attrattore urbano e industriale che ha fatto, letteralmente ha aspirato le persone che sono scese nelle grandi città, nelle zone pedemontane a lavorare in fabbrica e hanno via via svuotato i paesi, soprattutto quelli più scomodi, quelli più lontani, quelli con un clima e con una morfologia più severa. Ma lì c'è la nostra storia, ma lì ci sono più di 2000 anni di storia, perché le nostre montagne, in appendino 5000 e oltre, ma anche sulle Alpi c'è Ötzi che ce lo dimostra qui vicino, ci sono millenni di storia sulle nostre montagne italiane e lasciare crollare in pochi decenni questo patrimonio, queste radici è veramente un delitto. Ma è anche vero che se il lavoro non c'è, se la scomodità di muoversi per le comunicazioni ti isola dalle opportunità della città, se la gente è poca e quindi socialmente ci sono pochi stimoli e seppure vanno via i servizi essenziali, è ovvio che questo, soprattutto negli anni 70-80, ha portato a un grande abbandono. Ecco che allora a questo punto ci sono le due novità attuali che secondo me danno una ventata di opportunità a tutta la montagna italiana e non solo italiana, perché gli stessi ragionamenti li stanno facendo in Francia, sulle Alpi e sui Pirenei, in Svizzera, in Austria. E che cosa sono questi due elementi? Uno è proprio il clima che vi ho detto, la gente quando ci sono 40-45 gradi in città scappa, lo abbiamo già visto, per ora con fenomeni temporanei limitati, lo ha fatto nel 2003, lo ha fatto nel 2015, lo ha fatto nel 2017, se voi guardate i dati di frequentazione turistica e di affitto delle case o occupazione delle seconde case quando ci sono le ondate di caldo vedrete dei picchi. Il secondo elemento che ha spinto è stato Covid. Covid ha fatto capire la fragilità delle aree urbane. In città ci si sentiva un po' indifesi, e se manca il cibo cosa facciamo? E se manca l'energia? E se manca l'acqua? In montagna hai a disposizione questo livello di base di sopravvivenza, poi magari mancano tante altre cose che ci sono nelle città, ma il livello fondamentale di resilienza individuale c'è. E l'altro elemento importante è un'opportunità, il telelavoro, la connettività internet. Questo secondo me rende la montagna da periferia a centro. Non abbiamo più bisogno della città, o almeno non ne abbiamo esclusivamente bisogno. Ci sono momenti della propria vita dove uno può benissimo andare a farsi un'esperienza in città, in un altro paese, ma guardate che non è più necessario vedere Milano, vedere Padova come dei miraggi insostituibili della propria avventura professionale, sociale. oggi internet permette di mettere insieme le persone seguendo le proprie affinità in pochi secondi. La città ha sempre permesso di l'incontro tra affinità culturali, sociali, ma guardate sempre in maniera casuale. Vado in città e spero di incontrare qualcuno che vada in risonanza con me. La statistica mi dice che forse in piazza Duomo a Milano è più facile incontrare quell'affinità che sulla piazza di Santo Stefano di Cadore, ma non è detto. Oggi internet ha rivoluzionato tutto. Io posso mettere sulla mia pagina Facebook, su qualsiasi altro mezzo di condivisione, di idee, di cultura, alcuni elementi e nel giro di pochi minuti, di poche ore, di pochi giorni posso incontrare nel mondo tutti quelli che la pensano come me, con i quali ho qualcosa da dire, da scambiare, magari da vivere anche insieme. E questo lo posso fare dal mio computer, non nemmeno dalla scrivania, addirittura con il telefonino seduto sotto una bete. Ecco quello che ci rende oggi due grandi servizi. Il primo servizio è che ci toglie dall'isolamento culturale e sociale. Guardate che negli anni, fine anni 50, arriva la televisione, ma la televisione non è stata sufficiente a togliere il senso di solitudine e di malinconia, perché la televisione è passiva, non è attiva. La televisione ha senso unico, qualcuno la fa, di solito nelle grandi città, e qualcun altro qui la guarda e spesso la subisce, sentendo ancora di più la distanza, perché quasi mai la televisione fatta nelle città parla della montagna, non parla quasi mai di te, e quindi ti fa sentire ancora più isolato, marginalizzato. Internet no, internet è attivo. È un sistema nel quale io metto dell'informazione e questa mi ritorna senza passare necessariamente dalla città. Questo incontro non è transitato come hub da una città. È stato mountain to mountain, peak to peak. Ci siamo parlati tra a Comelico e Alta Valle di Susa, con una mail, poi con una telefonata, poi magari ci siamo fatti una video call su Zoom per vederci in faccia e adesso siamo qui. Torino, Milano, Bologna non hanno partecipato a questa connessione culturale. È stata internet che l'ha resa possibile. E ovviamente la cultura, il libro... Quindi oggi abbiamo questa grande possibilità di vivere e lavorare in montagna senza sentirci isolati e soprattutto portando mestieri nuovi. Altrimenti la montagna rimane quella montagna stereotipata dell'allevatore di vacche, del selvicoltore, il boscaiolo con la camicia quadrettoni, la guida alpina, il maestro di sci dove c'è ancora la neve, che è sempre di meno, quindi sarà un mestiere a estinzione. Cosa ci possiamo ancora mettere? L'albergatore. E poi è finita lì. Questi sono i mestieri della montagna. Invece, che sono poi limitati, non puoi mettere dieci agricoltori, dieci allevatori dove lo spazio permette che ce ne stiano tre. E quei tre ci sono già. Allora cosa porto in montagna? Porto tutti i mestieri intellettuali che possono essere fatti su un computer, che possono essere fatti con la testa soltanto. Porto l'arte, la letteratura, la musica, la progettualità, l'ingegnere, l'architetto, il professore universitario, il ricercatore. Ma porto anche il manager. Oggi si dirigono aziende da un computer. Non c'è bisogno di essere seduti per forza nella city di Londra per dirigere un'azienda oggi. Sono le tue capacità tecniche e manageriali che fanno la scelta. Poi se c'è bisogno vai anche a Londra. Non è che la montagna è una palla al piede? Spesso quando io ho fatto questa scelta mi sono detto vai a metterti lassù. Ma io ho detto scusa ma non è che io metto il piede nel calcestruzzo murato e poi da lì non mi muovo più. Tant'è che sono qui. Se ho bisogno della città prendo la macchina, prendo il treno, mi muovo, vado, faccio quello che devo fare e poi ritorno. Certe volte muoversi per superare una complessa periferia urbana con tutto il suo traffico ci metto quasi lo stesso tempo che sa dire nella mia baita. Allora finita questa cornice di insieme ecco l'esperienza diretta. Ho voluto dopo 30 anni di convegni sul futuro della montagna parole che ho definito in un paragrafo una montagna di balle perché sono solo balle. Ho voluto provare in prima persona. Ho capito che tutto quello che abbiamo detto per 30 anni nei convegni sul futuro della montagna sono chiacchiere. Quando ti metti veramente lì a ristrutturare la casa e a vivere ti accorgi che oggi ci sono quasi soltanto degli ostacoli salvo alcune zone fortunate. Ovvio che se vai in alto adige probabilmente degli ostacoli o non ci sono o sono molto di meno. Ma per gran parte di questa montagna sfigata, quella appenninica e quella delle zone dalle quali vengo io, cioè il Piemonte, ma anche il Bellunese, la Carnia, le Prealpi Bergamasche, la Valtellina non turistica, sono tutte zone che soffrono di questa marginalità. E le parole della politica per lo sviluppo della montagna, in Italia abbiamo perfino un articolo della Costituzione che segna l'importanza della questione montana. però come sempre una Costituzione mai realizzata, ma vuol dire che già i padri costituenti nel 47 si erano posti i problemi alla montagna. Allora io ho preso questa casa e ho iniziato con la cazzuola, con il martello, con i muratori a ristrutturarla. Dico soltanto il criterio fondamentale. Dobbiamo ovviamente recuperare il nostro patrimonio edilizio montano nel modo migliore per essere sostenibili, cioè per non peggiorare la questione climatica. Come? Non bisogna certamente bruciare energia fossile, non bisogna ristrutturare la casa nel Comelico per poi far arrivare la cisterna del gasolio da Marghera. Dobbiamo ristrutturare le case con i nuovi criteri della bioedilizia e ci sono. Io ho reso questa vecchia baita che era invivibile, medievale, possiamo dire, una casa certificata Casa Clima A++ dove i miei consumi energetici sono meno del 10% della casa come era prima e quel 10% realizzato praticamente tutto con le energie rinnovabili, pannelli fotovoltaici, collettori solari termici per l'acqua calda e una piccola parte per le giornate più fredde, più buie o con i pannelli solari quando sono coperti di neve con la legna dei boschi a chilometri zero. Non faccio arrivare il pellet dalla Romania che il camion deve fare 800 chilometri per portarmelo, quello non è sostenibile ma ci accorgiamo di essere così autosufficienti, di avere una maggiore resilienza. Ovviamente accanto al ripristino delle case con queste tecniche c'è poi il ripristino di un territorio che è stato abbandonato, vuol dire riprendere un'agricoltura, un'agricoltura di qualità non di sussistenza. Le patate che facciamo a 1650 metri le vendiamo ai turisti torinesi a 2 euro e mezzo al chilo, non a 40 centesimi come quelle polacche perché gli facciamo capire che sono veramente patate biologiche raccolte in un ambito dove la produttività è minore ma le caratteristiche organolettiche migliori e poi facciamo le lavande, facciamo i cavoli, facciamo i cereali antichi che vengono adesso nuovamente panificati per ora a livello personale, chissà domani venderemo il pane di montagna. Tutte queste cose si possono oggi fare e sono la proposta per una rivitalizzazione della montagna ma che sia abitata non un parco giochi, non un posto dove venire a passare 15 giorni di villeggiatura. E termino con la necessità di governare questo processo, cioè la migrazione verticale può essere una carta da giocare per i nostri territori purché ci sia un progetto delle istituzioni dietro, purché non venga lasciata al caos e al caso. Perché se lasciamo che siano le persone a organizzarsi e soprattutto lo faranno quando saranno prese dal panico, quando ci sarà il mese tutto a 45 gradi a Milano, allora vedrete arrivare la migrazione con la valigia di cartone, saranno quelli che allora cercheranno affannosamente un locale, ci sarà la speculazione, ci saranno gli odi, i conflitti, come sempre accade quando c'è il troppo e troppo in fretta. Invece i comuni, le regioni, lo Stato possono incanalare questo processo con una ragionevole tempo davanti di un decennio, agevolandolo proprio per evitare che venga poi distorto, fatto male. È una sola regola importante, una legge di un solo articolo e di una sola riga per non creare poi il danno di portare la città in montagna. Sarebbe deleterio fare un progetto di questo genere per vedere i condomini a Santo Stefano di Cadone. La regola è, si ristruttura solo l'esistente, non si fa un solo metro quadrato di cemento in più. Spunti, gli spunti sono molti, molti. Mi piace leggere una frase, una citazione dal libro appunto Salire in montagna, libro che poi per chi desidera può trovare anche qui fuori e credo ci possa essere anche un firma copie, no? Più tardi. Scrive Luca Mercalli, gli scenari climatici con cui lavoro tutti i giorni dicono che questo è appena l'inizio, che nei prossimi decenni avremo estati sempre più calde e asciutte, africane. Quindi migrare verso l'alto è questione di lungimiranza, di strategia per la vecchia area. Forse è meglio far di tutto per stare in alto, dove fa più fresco, dove ci sarà ancora spazio, terra e speriamo acqua. E devo dire che anche il tema delle nuove mobilità è un tema molto interessante, no? E sottolineo la parola non esclusivamente, no? Perché il rischio che io vedo sempre è che, come un po' tutto, ci siano le polarizzazioni, tutto città, tutto montagna. Si va, scelgo di vivere in montagna appunto e non torno mai più giù. Invece da tutta questa presentazione mi pare che è l'equilibrio, no? Quello che dobbiamo trattenere, un equilibrio che non mette in antitesi la vita urbana e come il mito del buon selvaggio, come se bisogna ritornare alla vita nei boschi. No, esiste un modo per calibrare le parti, ciascuno anche secondo la propria identità, professionalità, a seconda delle esigenze. Ecco, e probabilmente è questo, è questo punto di equilibrio la cosa più difficile da trovare, perché molto spesso si rischia di andare un po' di qua o troppo dall'altra parte e avremo modo poi nella discussione di tornarci su. E l'altro tema, e qui poi così ci agganciamo alla nostra seconda ospite, Luca Mercalli ha parlato di anche energia, di anche scelte di un turismo che non sia la Disneyland, di una visione di un'agricoltura, di scelte architettoniche che portano tutte a una parola. Questa parola è la sostenibilità. Ma la sostenibilità è una parola di quelle che spesso chiamiamo cristallizzate nella mia materia, no? Le parole che si usano talmente tanto che quasi non raccontano più niente. A livello comunicativo sembrano spoglie. Perché? Perché si usano e sembra che cosa vuol dire poi sostenibilità? E appunto la professoressa Chiara Mio si occupa di sostenibilità e leggendo il suo libro ho trovato innanzitutto, e voglio partire da qui, una definizione di sostenibilità che credo sia estremamente chiara e soprattutto concreta, che toglie alla parola quella patina di astrazione che spesso ce la fa sentire come qualcosa di, vabbè, tutti parlano, si pitturano di sostenibilità, ma poi... E la definizione è questa. Sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di sostenere i propri. Ritorno a quello che diceva Raffaella, senza compromettere quelle che potranno essere anche le scelte di chi verrà dopo di noi, di chi è già qui e magari dovrà compiere delle scelte tra 30 anni, 20 anni. Ecco, e quindi io chiedo alla professoressa Chiara Mio di dirci, quindi in un territorio... Lei si occupa di sostenibilità in azienda, ma tutto sommato mi pare che anche i territori possano essere visti in questa chiave, no? Ecco, cosa vuol dire sostenibilità per un territorio come questo? Ho cambiato la scaletta delle cose da dire tre volte, ho ripreso appunti dopo, mentre ascoltavo Luca Mercalli, quindi adesso provo a fare un discorso sensato, sarebbe già tanto ordinato, non ci riesco. Allora, sarò schematica proprio per evitare di perdere dei pezzi e poi magari nel dibattito interagiamo su alcuni punti. Sostenibilità, la definizione che ha letto dottoressa Di Benedetto non è mia, peraltro è rivendicata da varie religioni, noi la conosciamo perché negli anni 70, quando dovettero decidere come spartirsi le poltroni in Europa, scusate negli anni 80, era l'87, e dovevano decidere come spartirsi le poltroni in Europa e c'era una da dare alla delega, alla commissaria europea, all'ambiente, le cose importanti, i bilanci eccetera, tutti maschi. E' andato sta roba dell'ambiente, la femmina, perché l'ambiente in quell'epoca era la femmina, ed era però una molto tosta, era la Gro Bruntland. E da lì in poi è partita questa grandissima, scandinava, non mi ricordo se era norvegese o svedese, comunque la Gro Bruntland, e lei ha fatto le cose sul serio. E mi piace questo piccolo riconoscimento a una donna che è riuscita a cambiare la politica europea su questa cosa, ma gliel'aveva andata, come dire, mancava la delega a chi lava i piatti, finita la riunione, era questa qua dell'ambiente, e lei si è presa questo, però ha inciso un pochettino, quindi mai prendere le donne sotto gamba, né in pianura né in montagna, intanto. Sostenibilità, allora, la sostenibilità, proverei a schematizzarla così, perché c'entra tanto con i discorsi che stiamo facendo, e il mio punto di vista è un approccio aziendale. La sostenibilità ha le seguenti caratteristiche. Primo, ci deve essere un prodotto-servizio nuovo, un business model nuovo. Qui, anche qui, vado via veloce per ragioni di tempo, e proverei a fare un piccolo sondaggio, giocando anche qua sul palco. Se io vi chiedessi la marca di auto più sostenibile che c'è, fare la lista, la prima, la marca di auto più automobili, più sostenibile che vi viene in mente, che cosa mi direste? Liberi, non vincete niente, non perdete niente. Tesla, è una risposta che non è inaspettata, di solito mi dicono questo, e poi me ne dicono sempre un'altra. Toyota, sono le due case che mi dicono. Io non mi metto neanche a discutere se, quanto lo sia nel tema delle batterie, eccetera, ma vi dico che dal punto di vista della sostenibilità non ci siamo. Perché? Perché dal punto è sostenibile un ragionamento che scardina il concetto di proprietà. Provo a spiegarvela in un altro modo. Quanto fatto cento il tempo di proprietà in un anno dell'auto? Quanto è percentualmente l'uso di quell'auto che noi facciamo? Se vi va bene il 10%, se no il 5, il 3, dipende. Ecco, quindi noi spendiamo 100 per usare 3. Allora il vero approccio sostenibile è il pay per use e l'italianissimo Luca De Meo, CEO di Renault, ha fatto la Renault-lution, l'ha chiamata così, e ha rivoluzionato tutto il business dell'auto andando sul pay per use spinto. Tant'è vero che se voi andate oggi sul sito di Renault, in Francia è già possibile pagare per usare l'auto, dal lunedì al giovedì vi serve l'auto per la città, e la domenica per andare al mare con la decapotabile uno affita l'auto, e quello è un concetto di sostenibilità, perché non è fare le cose vecchie con la tecnologia appiccicata nuova, ma non cambia il mio approccio alle cose. La sostenibilità è un nuovo concetto di prodotto-servizio. Spero con questo esempio di averlo tradotto. La seconda caratteristica della sostenibilità è la tecnologia. Non esiste sostenibilità senza tecnologia, perché per fare sostenibilità abbiamo bisogno di una piattaforma tecnologica che può essere internet, può essere un grande studio dei materiali, pensate Casa Clima citata prima da, o le soluzioni tecnologiche nella bioedilizia. Non è che se uno vede un pannello che è leggerissimo ma è termoresistente dice vabbè un toc de roba e me la fa pagare tanto. Dietro c'è uno studio, c'è una tecnologia enorme. Noi vediamo sto pannellino leggero che ci permette di risparmiare, di tenere il caldo e di essere così prestazionale termicamente. C'è una tecnologia importante, non c'è sostenibilità senza conoscenze, senza tecnologia. Attenzione, tecnologia che non divide, perché la sostenibilità vuol dire user friendly, quindi deve essere user friendly. La terza caratteristica fondamentale è l'accessibilità. Un prodotto, un servizio sostenibile è un prodotto accessibile, chiara? Ed è accessibile almeno per due caratteristiche. Uno deve essere facile da capire e raggiungibile. Due, in termini di prezzo. Per me, per esempio, e lo dico alienandomi ma non c'è problema, non si può essere simpatici a tutti, vero Luca? Cioè uno ha tanti amici, tanti nemici, vuol dire che è anche un'idea. Per me luxury, lusso e sostenibilità è uno simono. Per la sostenibilità perché deve essere accessibile con il prezzo. Lo dico in un altro modo, noi saremmo ricordati per essere una civiltà contenta di pagare 25.000 euro al chilo un vestito. Io non credo che sia gran sintomo di intelligenza. Dopodiché ognuno pensa come vuole, no? Uno se vuole spendere. Perché dico 25.000 euro al chilo? Provate a pesare il vestitino di, non dico Marche perché poi sembra ne cito uno ma ne ne dico un'altra, ma non dico Marche, Versace, Gucci, Prada, no? Pesatelo, 150 grammi, ma quelli da sera anche manco perché insomma da sera mi vestono corto, quindi meno pesa più costa, al chilo quanto viene? 25.000 euro. Noi paghiamo, i maschietti non sono da meno, non so i tuoi papillon, però insomma le cravate, anche... E su questo, attenti, giusto per non fare populismo ma fare vera informazione, per dirla tutta, e resto un attimo sull'esempio del luxury, dobbiamo aggiungere l'informazione del costo al chilo per volta di utilizzo, perché se compriamo un capospale e lo utilizziamo 30 anni, 30 anni, anche se l'ho pagato una cifra importante, ma la durabilità, l'ammortamento in chiave aziendale, il costo per volta di utilizzo è nettamente minore della roba che compro come una strassa, 10 euro ma la metto mezz'ora, neanche quello non va bene perché il costo per tempo di utilizzo è massimo, quindi non basta lavarsi la coscienza e compro la roba da poco e le metto mezza volta o neanche una volta. Chi di voi non ha mai dimenticato una roba comprata, di vestito, mai messa e dopo si è pentito quando dopo tre mesi l'ha ritrovata? Quante volte? Quello è peggio che spendere tanto per una roba. Ecco, allora la sostenibilità è, ricapitoliamo, prodotto servizio nuovo, accessibilità e tecnologia. Queste tre sono le caratteristiche. Veniamo alla montagna perché non voglio perdermi. Allora, questa è la sostenibilità. Cosa c'entra con la montagna? C'entra perché è chiaro che se io continuo a misurare, per noi aziendalisti, la dico in inglese, Luca mi odia, mi ha detto che lui ama il francese, io credo di agricolo, potrei ma tanto. What you measure is what you get. Quello che misuri è ciò che ottieni. Quello che misuri è ciò che ottieni. Ok? Quindi se io dico alla gente che è importante ti misuro sulla puntualità, la gente sarà puntuale, magari stupida ma puntuale. Se la misuro sulla qualità delle idee che mi dà, magari arriva 5 minuti dopo ma mi dà idee. Dipende su cosa la misuro. Bene, se noi misuriamo la montagna con i parametri dell'economia intesa come conto economico e magari con questi payback, tempi di ritorno 3 anni, 5 anni, abbiamo deciso che montagna vogliamo. Perché in 3 anni, 5 anni non ci stiamo. Non ci stiamo. Ma noi stiamo ragionando di un contesto sociale, umano, ambientale dove le dimensioni sono di più. Allora, se abbiamo una piattaforma di conoscenza che ci permette di misurare l'economia, costi ricavi, ma non siamo ancora capaci di avere l'unica misura che somma ambientale, sociale ed economico, non vuol dire che non valgano niente. La dico in un altro modo, scusate se siamo in fase di divulgazione. L'amore nella vostra vita conta? Ecco, in euro. In euro. Zero. Zero. Anzi, costa skateboarder fuori amorosa. Anche certe volte, quindi è negativo. Oppure una volta ci ho pensato, io sono aziendalista, ho cominciato a pensare, ma non perché sono cinica, quanto costa levare un figlio? Poi ho smesso perché mi pareva brutto farlo. Però far figli bisogna essere dei dementi? Ma costa 100.000 euro come rider da quando nascono a quando poi ti dicono mamma va... Cioè, spende, investi sui 100.000 euro sudati... Allora, se noi continuiamo a misurare la montagna con la categoria dell'economia, stiamo misurando veramente bene? No. Allora che cos'è il punto? Il punto è che un progetto sulla montagna deve avere delle coordinate che non possono essere solo economiche. Se non prendiamo un pezzettino, Napoleone non avrebbe mai costruito la napoleonica con le categorie economiche. Ha collegato Treviso fin su a Tarvisio, per altri in due anni, alla faccia nostra, con la tecnologia e quella volta, ma non pensando al ritorno economico, per collegare la gente. Perché la gente ha diritto di essere collegati. Io non posso metterci 40 minuti per fare 10 km. E il valore della connessione non è un valore economico. Certe cose devo farle perché bisogna farle. Allora, le categorie economiche della misurazione non esauriscono. Quindi vuol dire che serve una politica intesa in senso nobile che dica, qui è giusto dedicare risorse perché voglio preservare i boschi, polmone per il comelico e basta, perché l'aria voi ve la tenete sul confine. Voi siete capaci di tenervela. Quindi l'aria buona, siccome è vostra, pagatevela. Non è proprio così, no? Chiedo allo scienziato. Non è così. Queste, le montagne, sono polmoni per tutti. Allora tutta la comunità. Belluno, il Veneto, l'Italia, l'Europa. Cioè il polmone verde serve a tutti. Guardate che, aperta parentesi, in Africa stanno monetizzando i diritti di emissione, cioè il valore di tenere le foreste così come sono e le stanno bloccando e questa cosa vale soldi che, la dico male, ma che è transata, negoziata la borsa di Londra per tenere le foreste così come sono per essere polmone del mondo. E noi abbiamo i boschi qua della montagna, basterebbe istruire un pochettino, tanto, i funzionari della regione, dobbiamo istruirli tanto, ma ce la facciamo per spiegare che possiamo fare la stessa cosa che stanno facendo in Africa. Tenere i boschi così come stanno ha un valore perché il costo differenziale è il costo del ripristino, quanto ci metto a riottenere sta roba. Il costo del ripristino sì che lo misuro. Allora, e poi, scusate, quanto vale la pace dopo l'Ucraina? La guerra non si vedeva da tanto tempo, quanto vale? Ma non la faccio lunga perché voglio dire ancora due cose, ho qualche minuto ancora chiara. Ok, la montagna. Io lo dico perché non sono una populista, sono una donna di pianura, farei fatichissima, se si dice, a vivere in montagna perché soffro il freddo in inverno, io ho preso i geloni, io ho preso i geloni a Venezia quando facevo l'università, per cui farei tanta fatica. Detto questo, riconosco il valore e da pianurosa, come si dice, sarei disposta a pagare un quid perché si è vero il progetto perché la montagna resti importante e non si spopoli. Perché noi, in Italia in particolare, abbiamo questo grande valore di questo urbanesimo diffuso e di questo modo di vivere il territorio non omologato, ed è un valore. E io sono disposta a pagare un prezzo per mantenere questa diversità. Non vorremmo diventare tutti dormitorio di Milano? Dormitorio di Milano o dormitorio di Padova, cioè con quel pendolarismo. Quanto vale mantenere questa diversità che è dai comuni e da prima a mille anni? Adesso noi per un conto economico dei due anni la buttiamo via. Allora, la sostenibilità non bisogna utilizzarla pensando che con quattro pannelli d'acqua riciclata l'ho fatta. Oggi la vera sfida della sostenibilità che è negletta è la parte sociale, perché l'ambientale e gli ingegneri ce l'hanno misurata in tutti i modi. La CO2, i GHG e l'acqua. Nonostante questo non lo facciamo, ma sul sociale siamo indietro di anni luce, perché sociale vuol dire il tema maschi e femmine, il tema della diversità, il tema dell'inclusione, il tema della qualità della vita, il tema dei non, come diceva Don Milani, dare a tutti la stessa cosa, ma dare a tutti i pari diritti, voi l'avete chiamata pari opportunità, c'è bellissima quella vignetta che mette, c'è una palizzata, se ci alziamo io e uno alto due metri, non è che se mi dai a tutti e due lo scagnette da 20 centimetri mi hai fatto arrivare alla palizzata, io ho bisogno di mezzo metro per arrivarci e quell'altro ho bisogno di 10 centimetri, non è dare a tutti la stessa cosa, quindi c'è un cittadino in Italia, quello della montagna c'ha come quella della pianura. Allora, tutto questo, che cosa passa? La sostenibilità ci aiuta e l'aziendalismo ci aiuta. serve un progetto condiviso dai tre attori che nella sostenibilità sono fondamentali, la comunità, che chiamo in questo punto come l'azienda, lo Stato, la pubblica amministrazione che non può essere assente e deve condividerlo, e terzo, i soggetti, le persone, non potete pensare che il comelico nuovo lo facciano la regione, la provincia, qualcun altro, passa attraverso un processo identitario dove ciascuno di voi è chiamato a fare integrazione fra le spinte alla modernità, internet con l'arice. È uno simolo? Assolutamente no, sotto l'arice è meraviglioso stare lì e studiare e vivere. Vuol dire che internet ci risolve tutti i problemi? No, però vedete in un contesto come la montagna possiamo infrastrutturare grazie alla tecnologia e permettere una qualità di vita fino a vent'anni fa impensabile, impensabile. Dopodiché le connessioni di persone e cose servono, se non ci sono le strade, se adesso ci blocca la galleria, finito. Però la connessione di dati è importante, ci raggiunge Amazon, ordiniamo anche qua, magari ci mettono 24 ore 36, chi se ne frega, staremo senza l'ultimo trabiccolo 12 ore in più. Quindi non è tutto questo gran problema. Allora condivido molto, il tema è la governance ma è questa missione identitaria. Allora io che sfide vedo grosse per questo territorio e per la montagna? Non è un problema di che impresa, aperta parentesi. Cito, io vado sempre per esempi, a Venezia c'è un imprenditore veneto molto bravo nel settore del legno che si è inventato una roba ma non scarto e ci ha fatto un valore aggiunto pazzesco con la sua capacità di storytelling e guardo l'esperta. Sapete cosa sono le bricole? Le bricole sono i pali di Venezia che dopo anni, decenni che stanno dentro, le tirano su, sono pieni di alghe, di robe, pali marci stai in acqua, non marci ma insomma stai in acqua. E ci ha fatto il parquet, il parquet che costa 250, 200 euro al metro quadrato. Con una lavorazione sicuramente ma con una capacità di narrazione importante. Come esempio di come la radice, il valore del territorio è l'unica cosa che i cinesi non ci possono copiare perché possono copiare tutto ma fabbricare la storia indietro dura, dura la vita. Allora avendo questo patrimonio di radici, di tradizioni, la capacità dello storytelling, genere, imprese, imprenditorialità locale, da conciliare con poi le realtà di terziario avanzato che possono stare qua come ad Amsterdam e qua forse è anche meglio stare. Quindi non è un tema di imprenditorialità, per me la sfida più difficile è la vostra capacità di accogliere i ragazzi e le ragazze e di farli sentire a casa anche se parlano inglese, anche se parlano un linguaggio che non è quello della vostra nonna, anche se magari i canti popolari li guardano un po' così perché sanno meglio, i tiktoker conoscono. Ma non è che sono degli alienisti ragazzi perché conoscono i tiktoker, impareranno 30 anni le tradizioni, anche voi avete avuto la vostra età. Ecco, secondo me la grande sfida è questa, cioè che la popolazione oggi un po' più agé che sente questa responsabilità sia accogliente e inclusiva verso i ragazzi non facendoli sentire stranieri a casa loro. veramente grazie di questo contributo e anche focalizzo una differenza importante, strumenti e valori. Internet come strumento da non confondere come se fosse quello il valore, la cosa da imparare. Internet deve essere lo strumento che aiuta a tirar fuori quel valore che è quello del territorio, che per qualcuno è la conoscenza dell'arice, per qualcun altro è lavorare a distanza con la Norvegia. Ma non confondere le due parti, credo che spesso ci sia il rischio di sovrapporle e quindi poi di investire verso quello che deve essere solo lo strumento che ci permette poi di arrivare in un altrove e unendo i contributi credo che sia un tema fondamentale da portare alla luce. E arrivati a questo punto io invito la nostra terza ospite della tavola rotonda a salire sul palco. Sale sul palco Maria Martini Barzolai che è una residente di questi territori, dottoranda in management all'Università Ca' Foscari di Venezia, dove si occupa di studio di reti, di territori e di comunità. Benvenuta Maria. Faccio subito una domanda a te, visto che ti unisci e sei l'unica, poi in fondo qui io sono solo per metà e non vivo qui, tu sei l'unica che ha scelto di vivere in Comelico e vive in Comelico pur facendo un dottorato altrove. E qui ti chiedo, alla luce anche di quello che Luca Mercalli diceva prima, parlava di nuove professioni, di una mobilità anche professionale, che è quella che forse in un prossimo futuro potrà permettere anche di evitare uno spopolamento delle zone, portando vita, portando futuro e non portando solo il turismo di 15 giorni, che non è quello che si cerca, perché se vogliamo creare sviluppo, lo sviluppo si crea con le radici, stando, abitando, conoscendo. Allora ti domando, questo si può lavorare in Comelico? Come si lavora in Comelico questa mobilità professionale? Tu che un po' la stai vivendo, com'è? Beh, allora innanzitutto voglio dire che noi lavoratori della conoscenza cosiddetti siamo dei gran privilegiati, ecco diciamo subito le cose come stanno, perché abbiamo la fortuna di avere questa flessibilità, del poter essere ovunque e infatti oggi che si è aperta questa grande frontiera, diciamo, del lavoro a distanza, perché poi non lo chiamiamo smart working, è sempre più evidente come ci sia flessibilità, sebbene ci siano ancora aziende che un po' resistono a questo modello della flessibilità. In Comelico si può vivere e lavorare direi molto bene, nella mia esperienza è così, io sono molto fortunata perché avevo questo appunto questa flessibilità già prima del covid e ora ancora più. Chiaramente questo richiede tutta una serie di messe a punto, non le vorrei chiamare sacrifici, ma messe a punto, quindi sapere che nel doversi spostare bisogna essere efficienti, non si va in ufficio per sistemare una carta, ma si va quando si hanno più propositi, bisogna sapersi organizzare molto bene il proprio tempo e i propri spazi e soprattutto non è soltanto una dimensione individuale, ma è anche una dimensione familiare, ci deve essere tutto un contorno che regge questa cosa e anche aziendale, ci deve essere dall'altra parte la vera disponibilità a questo decentramento, chiamiamolo così, questa flessibilità non come rimedio temporaneo, ma proprio come ottica in generale. Grazie, e qui hai detto delle messe a punto, quindi i fattori di criticità, e questo poi anche un po' lo porto come domanda condivisa, che i fattori di criticità che credete siano da superare più nel breve termine per permettere poi che tutto questo avvenga, perché adesso stiamo tracciando, delineando degli scenari possibili, però poi perché le cose accadano bisogna avere la condizione perché questo possa esserci, anche in un territorio come questo, appunto dicevamo, quasi tutti i territori montane hanno cose in comune, qui siamo in Comelico e quindi quali sono le criticità su cui bisogna impegnarsi? Da un lato, come diceva Chiara Mio, dall'alto e dal basso, perché ci sono due spinte. Beh, allora, diciamo che il tema della distanza a volte è un tema insuperabile per dei servizi di tipo fisico, se devo andare in ospedale banalmente ci metto due ore e questa è intubbiamente una cosa che riguarda non soltanto la professione, ma proprio l'individuo in senso base proprio. Sicuramente ci sono delle difficoltà logistiche legate alle distanze per quei servizi che ancora non possono essere fruiti e che forse mai lo potranno essere a distanza. C'è anche però una grossa ancora mentalità, mettiamola così, cittadina, che vuole ancora tutto sommato, sebbene ce l'ha raccontato bene il dottor Mercalli prima le cose stiano cambiando, un accentramento per cui di fatto ancora oggi in molti molti servizi, appunto sanitari, ma anche del terzo settore in generale, legati alla persona, ai servizi del lavoro, in molte cose, c'è ancora purtroppo l'idea che bisogna andare a e che sia un andare fisico o virtuale, a volte virtuale più spesso fisico, bisogna recarsi e questo chiaramente crea delle difficoltà nel vivere in montagna. Io ovviamente adoro vivere qui, sono contentissima delle mie scelte in questo senso, qui voglio crescere mia figlia, però sono anche consapevole che guardando appunto al futuro ci sono tutta una serie di servizi e di scelte anche professionali che non sono sicura di poterle garantire, ecco mettiamola così. Ma forse avrà qualcosa di più, si salverà la pelle, mentre gli altri non è detto che lo possano fare, mettiamo sempre sul piatto che ci sta cambiando il mondo sotto i piedi, non abbiamo a che fare con una fotografia statica della realtà di oggi, dobbiamo fare lo sforzo di fare degli scenari e di avere una visione dinamica, quindi che cosa c'è sul piatto di questa bilancia? C'è la vivibilità del pianeta che in altre zone, citavi Venezia, e Venezia va sott'acqua alla fine di questo secolo. Il mare sta già aumentando di 4 mm all'anno, nel caso migliore dell'applicazione dell'accordo di Parigi 40 cm e per Venezia 40 cm sono già un grandissimo problema, ma se non si farà niente un metro e venti, un bel metro diciamo a Venezia vuol dire che la prossima acqua granda è a 3 metri, quindi a San Marco non entri più. Quindi ci sono oggettivamente dei futuri dove prepararsi in anticipo può essere una scelta strategica. La domanda era però che cosa secondo te è più importante oggi modificare, visto che la termodinamica non la possiamo modificare, invece come pensano e come agiscono gli umani per me, teoricamente sì, per me è la burocrazia il mostro più gigantesco che abbiamo davanti, tant'è che la difficoltà che io ho dovuto superare in questi anni di migrazione verticale è stata proprio l'ottusità della burocrazia, a cominciare dal comunello fino ad arrivare ai vertici della regione o dello Stato. Non hai nulla di diverso in montagna di quanto siano le opportunità per la pianura, ma hai tutti gli ostacoli invece. E ho intitolato il paragrafo i 14.8 mila della burocrazia da superare tutti senza ossigeno. Solo quando li hai superati tutti avrai l'agoniato timbro e potrai per esempio iniziare i lavori di restaure, ma nemmeno dovessi costruire il tunnel dell'alta velocità, ma qui stiamo parlando di ristrutturare delle case vecchie, eppure quella pietra la puoi muovere solo di otto centimetri, devo far di nove perché sennò crolla il tetto, ah no non si può commissione paesaggistica, passaggio in regione, un anno per una pietra, siamo alla follia e questo può essere l'ostacolo maggiore anche per i giovani, perché se uno lo fa nella piena maturità professionale e le spalle un po' più larghe, mi metto nei panni di chi fa una scelta iniziale, quando hai bisogno di una start-up, quando non hai magari sufficiente appoggio economico, quando non sai ancora se la tua vita professionale decollerà e ti prendi queste mazzate, soccombi, torni nel tuo appartamento a Rogoredo, quindi la burocrazia però è fatta dagli uomini, è fatta da noi stessi, se non si fa squadra non si va da nessuna parte, io mi sarei aspettato un approccio diverso quando fai queste operazioni, che il tecnico comunale ti stringesse la mano e ti dicesse bene, guarda, ti do anche qualche suggerimento, non che mi mettessi invece i bastoni fra le ruote, questo purtroppo dipende da tanti fattori, da una legislazione cavillosa, da responsabilità opache e alla fine o perché ci sia semplicemente l'autoprotezione del funzionario che dice io dico sempre no, così sono nel sicuro, o addirittura che ci sia perfino del rancore, dell'invidia, del fastidio e questo c'è purtroppo, senza squadra non si farà questa transizione e ho storie di persone che mi hanno scritto dopo aver letto il libro che veramente fanno venire le lacrime per la quantità di entusiasmi che sono stati mortificati da un coglione qualunque, va bene, non ha il diritto di farlo, uccidere gli entusiasmi è una delle cose più terribili che si possono fare una persona, perché non lo farai più la seconda volta. Due pillole di ottimismo, perché condivido l'analisi ma due pillole di ottimismo, il covid ha portato nel filo del ragionamento che stiamo portando avanti un aspetto positivo, perché è sotto gli occhi di tutti, e ormai ci sono anche dati economici, che l'organizzazione dei servizi sanitari, scolastici, urbanocentrici è più efficiente ma è meno efficace, ok? Cioè costa di meno organizzare le cose per migliaia, per un milione di persone, penso che sia intuitivo, ma è meno efficace. Avete visto, la dico senza far politica, il modello sanità Lombardia non è stato tanto efficace tanto quanto il modello sanità, per esempio, del Veneto e dell'Emilia Romagna, che hanno puntato molto di più sul territorio e meno sull'ospedalizzazione privata. Questi sono dati di fatto. Allora, con questa eredità, noi abbiamo la forza di non dover convincere tanto, basta fare questo risferimento qua, i policymaker, chi fa politica, per dire, guarda che devi cambiare modo di ragionare, non puoi solo ragionarmi col costo, perché ti ho appena dimostrato che se arriva un germe qualsiasi, un covid qualsiasi, tu sei più efficiente, ma spendi tante volte in riparazione invece che in prevenzione. Il covid ci ha dato questa lampante, dolorosa lezione. Conviene prevenire piuttosto che curare, ok? Noi lo sapevamo con la saggezza, eccetera, però adesso non c'è più nessuno che dica ma no, intanto. Allora, nel ragionamento che stiamo facendo, in questa bella sfida sulla montagna, abbiamo dalla nostra il momentum, perché i politici adesso, su questo discorso di prevenire invece che curare, hanno evidenza empirica. Quindi anche la popolazione ci può seguire. Questo è il primo messaggio positivo, perché è più facile adesso che cinque anni fa, fra cinque anni non lo so. Il secondo messaggio positivo mi viene dalla frequentazione quotidiana con la mia linfa, che sono i ragazzi, i ragazzi e le ragazze all'università, perché è anche qui di tante cose positive dei ragazzi e delle ragazze. Ne dico una e ve la simulo con questo. Quando parlo con gli imprenditori ho due categorie. La maggioranza che mi dice sti giovani, voglio di far niente, appena si siedono e mi chiedono a che, smetto le cinque, devo lavorare sabato e domenica e siccome gli dico che qualche sabato si lavora e si lavora fino alle sette di sera, sti vogliono di far niente e non vengono a lavorare. Domanda, ma è così sbagliato avere altri obiettivi oltre che al lavoro? È proprio una roba così demenziale godersi la vita dopo otto, nove ore di lavoro? Cioè ognuno sceglie il suo divertimento? Io appartengo alla generazione che si diverte studiando e lavorando. Mio figlio mi dice che sono matta. Ma ha ragione lui, ma ha ragione anch'io. Ma allora è sbagliato che io giudichi i nuovi, i ragazzi, con la mia metrica, perché loro non sono i boomer, trovano soddisfazione in altro modo. Per i ragazzi, per la X generation, i nuovi, il valore dell'ambiente, della socialità è più importante del valore aumento di stipendio. Certo bisogna pagarli, ma arrivato a quel livello di decenza, di reddito, non gliene importa nulla. E allora questa è l'alleanza da fare con questi ragazzi, perché sono disposti a spendersi per l'ideale del quanto vale. Certo ci metto di più andare in ospedale, ma durante la settimana non mi scrivo in palestra o la montagna? Non mi serve averlo ionizzatore in casa, verso la finestra? Che ionizzatore? Cioè, verso la finestra, no? Allora quanto vale? Ecco, l'alleanza con i ragazzi oggi è possibile e secondo me è un bel segnale questo. E probabilmente anche quest'alleanza con i ragazzi e con i più giovani in generale sono più pronti a uno spirito anche di comunità, di una comunità diversa da quella a cui forse si è abituati, no? Io dico qui e in generale nei luoghi più piccoli siamo abituati a una cultura di prossimità, dove ci si aiuta, ci si conosce. Vedo che quella che tra i giovani invece è una spinta dal basso anche a essere comunità attiva su certe tematiche e probabilmente anche su certi temi che stanno emergendo oggi qui potrebbe esserci questa spinta anche che viene dai più giovani che vivono nel territorio. Su questo chiedo proprio a Maria che è di qui, che esperienza c'è e poi anche a Luca Mercalli se nella sua esperienza anche di altre zone la spinta che viene dai ragazzi può essere trainante o se ci sono casi anche su questo perché credo che potrebbe essere interessante. Troppe volte si pensa alla montagna come il posto, si pensa alla narrativa, no? Prima dicevamo lo storytelling. Tu vedi l'immagine di montagna e vedi l'anziano che è nell'orto, che è nel bosco, quanti giovani associati? Se voi chiudete gli occhi, anzi non qui, se andiamo a Padova dagli studenti e diciamo chiudi gli occhi, immagina una scena di montagna, non credo immagino dei ragazzi in montagna tendenzialmente. Ecco quindi forse c'è anche un lavoro da fare di narrativa, di quello che è l'immaginario, no? Che si vuole raccontare che può essere molto forte e quindi chiedo a voi. Allora, innanzitutto voglio proprio spendere due parole su quanto questa associazione per me è stata veramente fondamentale nel riuscire a essere collettore delle energie giovani perché adesso forse qualcuno è un po' diversamente giovane diciamo, però comunque in generale siamo ragazzi che grazie a questa associazione si sono ritrovati tutti accomunati da un forte amore per il territorio e qui forse va fatto un piccolo distingue rispetto a quello che diceva la professoressa Mio, noi siamo tutti molto consapevoli del valore diciamo così ambientale, la grande fortuna di poter dormire con le finestre aperte, dimenticarsi la porta di casa aperta perché non c'è pericolo, il silenzio, cioè tutte queste piccole cose che rendono la nostra vita quotidiana molto ricca di valori a quanto pare invisibili ma fondamentali, quindi noi queste cose le conosciamo molto bene. Quello che poi ci viene dietro è diciamo così la struttura sociale e la struttura istituzionale per cui in realtà sì, noi giovani abbiamo qui voglia di poter lavorare assieme per comunque costruire delle alternative, creare una massa critica sociale, sebbene sappiamo che la montagna per sua natura tende a portare un pochino all'isolamento, si sale in montagna per stare in silenzio, contemplare e stare un po' da soli, ma comunque c'è qui assolutamente attraverso l'associazione ma non solo un forte spirito di comunità che riguarda non soltanto gli anziani ma anche i giovani, sicuramente qui non sei uno sconosciuto in mezzo al tuo avvicinato, hai un insieme di persone intorno che nel bene e nel male ti stanno appresso nelle tue vicende quotidiane e questo ha molto valore. Chiaramente come dire anche i giovani della montagna come tutti i giovani vogliono le stesse opportunità che possono trovare ovunque e qui scatta diciamo così la lente istituzionale per cui se possibile il giovane vorrebbe trovare anche in montagna quelle condizioni per esprimere la sua socialità, mettere a valore quello che trova nella natura senza dover superare con lo sgabello della giusta altezza, ecco per usare la metafora della prof prima. Grazie. La mia borgata ha 20 case, non aveva nessun giovane, voglio solo dirvi che le cose possono cambiare in fretta. Siccome anch'io faccio il docente di sostenibilità ambientale a contratto all'università di Torino, martedì ho deciso che invece di scendere io in aula, in università, sarebbero stati i miei studenti che salivano da me. Eravamo in 35 da Spagna, Francia, Romania e Italia. Giovanissimi, lucidissimi, diversissimi. Ecco vi lascio con questa foto di gruppo che abbiamo fatto nella borgata abbandonata. I giovani di tutta Europa. Quindi queste cose a me non preoccupano, cambiano in fretta. Puoi rivoltarlo nel giro di un mese o di una stagione. A me preoccupano le situazioni irreversibili, statiche, sia a livello infrastrutturale, perché la galleria è la galleria. Se ve la chiudono, la chiudono. Quella non possiamo aggiustarla con le parole. Oppure mi preoccupano i puntigli, le chiusure. No! Si fa così perché lo dico io. Ecco quello ti blocca per sempre o blocca un giovane in una scelta iniziale che vorrebbe fare e in quel modo lì immediatamente viene messo fuori gioco. Ma altrimenti se si parte con quella strada, ma poi tutto il resto si fa. Anche perché se i luoghi disabitati hanno nuovamente una massa critica sociale, moltissimi di quei servizi che sono andati via, di cui voi parlate, inevitabilmente torneranno. E quelli che non torneranno è perché possono essere sostituiti da servizi a distanza, dalla tecnologia, della famosa tecnologia che ci vuole. Perché se c'è un caso solo nel quale la tecnologia non serve, se vogliamo tornare alla candela, allora lì va benissimo. Ma se vogliamo una vita in montagna nuova, comoda, di soddisfazione, senza eccessi, io a casa mia non ho fatto la spa. Ho detto basta la doccia calda con i pannelli solari. La spa non la voglio per rispetto anche a quello che c'è dietro, a vite difficili, severe, di miseria. Oggi vogliamo tutti invece giustamente l'acqua calda in casa, la casa clima, tutte cose sacrosante, ma non eccediamo poi nel grottesco, nell'ostentazione. È quel giusto equilibrio che stiamo un po' tutti faticosamente cercando. Ma i veri servizi che oggi la montagna è un po' perso possono tranquillamente tornare. E altri forse facciamo un passo così avanti che non serviranno più. Bravissimo, condivido, grazie. Due piccole annotazioni. La prima, c'è uno dei tanti libri che chiamo molto, è Hans Rowling, che è un grandissimo divulgatore. Il suo libro Factfulness è un medico in realtà, è morto due o tre anni fa e in un TEDs che potete trovare anche su YouTube racconta dell'importanza del progresso proprio nell'ottica ecologista e dice che quando ha davanti tutto il suo pubblico, anche gli studenti ecologisti, allora dice chi di voi non usa l'auto? Lui era in Scandinavia, tutti alzano la mano, in bicicletta, è facile. Chi di voi mangia a chilometro zero e tutti alzano la mano? Quando dice chi di voi si lava i jeans a mano senza usare la lavatrice, le mani restano tutte giù, perché le mani restano tutte giù. Cioè c'è un livello, adesso la candela va bene, però poi lo dico perché questo bellissimo video, andatevelo a vedere, che è da The Magic Washing Machine, la lavatrice magica, chiude il video, Hans, dicendo che poi tutto quel lavoro lì spetta alle donne. E quindi c'è un tema ambientale che torna sociale, perché chi è che lavava nel fiume, al freddo, le lenzuola, i jeans, le donne, perché poi alla fine diventa un tema sociale. Quindi bellissimo per un maschietto dire ma io non la voglio la lavatrice in casa, dopo la donnina che prendeva la varga e le lenzuola. Anche a no, vogliamo anche un minimo di giusta tecnologia, il trade-off deve essere accettabile. Quando vogliamo essere curati andiamo dallo sciamano o andiamo dal miglior esperto al mondo con tutta la tecnologia del mondo. Dopodiché non è che ci prendiamo una pillola per qualsiasi mal di testa, basta una camminata, certe volte e ti passa. Quindi questa è la prima annotazione. La seconda è che, di nuovo, ha ragione Luca Mercalli quando dice attenzione alle cose sulle quali dobbiamo impegnarci tanto. Però io ho un problema, lavorando con i giovani, forse molta fiducia nella scienza e nella razionalità. Sono più preoccupata della capacità degli adulti di condizionare negativamente i ragazzi. Cioè, se gli adulti, i genitori, i nonni continuano a far sentire diverso il ragazzino o la ragazzina perché non si veste da Heidi o da Peter delle Capre e non ha quel modello lì. Cioè, onestamente, Heidi, è ridicola nel 2022, con tutto rispetto, un bellissimo libretto e cartone animato, però, cioè, anche no. Allora, il potere che hanno anche subliminale gli adulti di far sentire i ragazzi protagonisti di una comunità, passa anche la capacità di questi adulti di sapersi proiettare nel 2050. Non si cambia la montagna in tre anni, in tre giorni, ma dovete avere fiducia in questi ragazzi che sappiano fare sintesi. Ma allora, se non sapete dire che lavoro fanno, state tranquilli, dite che persone volete che siano in linea con la natura, in armonia, serene, contenti, non drogati di psicofarmaci. No. Allora, non preoccupatevi di sapergli dire che lavoro faranno, perché noi non sappiamo che lavoro faranno questi ragazzi, perché i lavori non ci sono ancora. Tu sapevi, Maria, prima di laurearti che lavoro avresti fatto, io non lo so. Allora, non preoccupiamoci di dare risposte sui lavori, sulle cose che fai. Ci pensano da soli. Ma il tema dei ruoli e dei modelli potrebbe fare la differenza nel creare identità in questa comunità. E l'identità è sui valori, non su Heidi o sulla femmina che apporta la gerla, sulle spalle, su un'altra cosa l'identità. Ok? Ecco, questa per me è la mia preoccupazione. E questo, forse anche, diciamo, visto anche l'ora, poi chiudiamo su questo, e che è un tema proprio della condivisione di valori e della creazione di una comunità, direi, accogliente. Una comunità capace di accogliere il futuro, che vuol dire da un lato accogliere il futuro dei propri giovani, che sono qui, che mi sembra un tema che sta emergendo, e quindi accettare anche il non sapere, accettare di non sapere cosa sarà tra dieci anni. Io dico sempre, io lavoro nella comunicazione, ho studiato comunicazione quando i social media non c'erano. Se impari a pensare, lo strumento poi lo conosci, è di nuovo il tema dell'insegnare il valore e il pensiero. E quindi in questo senso mi viene da dire che sono anche occasioni di incontro, di scambio, come quella di oggi, diventano preziose anche per costruire un senso di comunità nei luoghi, per condividere quelle che possono essere le idee, le prospettive per la nostra comunità qui. E quindi accoglienza da un lato dei giovani che sono già qui e che cresceranno, e dall'altro anche accoglienza di chi viene da fuori. È diverso magari, e appunto magari non sa il dialetto, magari non ha idea di cosa, come fare il fieno, però porta altri valori. E quindi una morbidezza dell'accoglienza, che credo al comelico sia sempre stata riconosciuta come approccio anche al turismo, però che deve essere amplificata in modo tale anche da fare comunità, mi viene da dire anche, ripeto, alla luce di questa nostra discussione, fare comunità insieme. Non solo essere comunità chi è qui, ma fare rete. Chi viene da fuori può dare un contributo, perché chi ama un posto si spende per quel poco che può, con la competenza che ha. Magari non stando qui tutti i giorni, ma se tutti noi, e ci mettiamo in mezzo in tanti, portiamo il nostro contributo, diventiamo rete. E credo che questo sia un po' la cosa che ha più valore e che può essere proprio la, non so, mi piace quasi portare la chiusura di questa, di fare sintesi di questo nostro scambio. E invito a tornare con noi Raffaella, dell'associazione, a cui ho piacere di ridare la parola, se ha voglia di dire un'ultima battuta in chiusura alla nostra platea. Grazie Chiara. È difficile chiudere dopo tanti contributi interessanti e importanti come quelli che hanno portato i nostri ospiti questa sera, veramente difficile, non saprei cosa dire di più, se non che trasmettere appunto ai nostri figli, alle nostre generazioni quello che c'è di positivo. Dobbiamo trasmettere quello, non quello che manca. Quello che manca si trova, però dobbiamo insegnare loro quello che già c'è e quello che c'è di buono. Ecco, io chiuderei così. Volevo anche ringraziare le istituzioni che sono arrivate qui. Vorrei ringraziare Viviana Ferrario, che è la presidente della Fondazione Centro Studi. Vorrei ringraziare i rappresentanti di CISL e CISL che ci seguono sempre. La nostra sindaca del Cadore, Silvia, della sindaca di Vigo. E ringrazio tutti voi che pazientemente avete ascoltato, ma spero che questi contributi vi abbiano dato un qualcosa in più. Per me sono stati molto arricchenti, ecco. Grazie a tutti. Ah, dimenticavo una cosa. Se non ce l'avete già fuori, c'è la possibilità di acquistare il libro del professor Mercalli, che magari se avrà voglia qualche firmetta ce la fa volentieri. Grazie ancora. E aggiungo che, appunto, non ce l'abbiamo qui, però il libro della professoressa Chiara Mio, L'Azienda Sostenibile, edito dagli editori La Terza, il titolo può trarre in inganno L'Azienda Sostenibile, ma ci sono molti spunti veramente spendibili su quelle che sono le comunità, i territori. E nel salutarvi vi lascio con una frase tratta ancora una volta dal libro di Luca Mercalli, che è «Montanari per caso ce ne sono molti, per scelta pochi. Credo sia venuto il tempo che la psicologia sociale, l'antropologia, la sociologia forniscano nuovi strumenti di dialogo e di relazione, in grado di spazzar via comportamenti gretti, miserabili, invidi e sensi di inferiorità e sensi di superiorità, aprendo orizzonti di convivenza più maturi, dove le influenze interculturali siano non solo tollerate, ma auspicate e valorizzate e portino una reciproca fecondazione». Grazie. 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 Grazie.